ben ritrovati ben ritrovati qua su Radio Rosso Nera è la mattina di giovedì diciotto agosto ben ritrovato ben ritrovato Enrico Boiani ciao ciao buongiorno buongiorno a tutti è un obbligo di riscatto che insomma è figlio del momento quindi eh il mercato del Milan si sta andando a chiudere sono un paio le operazioni che devono essere portate a termine quindi eh rischia anche magari di essere un po' un po' ripetitivo ma in realtà qualcosa di diverso c'è rispetto al al recente passato vi racconteremo magari colme eh è lo stato della trattativa su ogni dica e anche dei movimenti in difesa a proposito del del giocatore nigeriano eh la trattativa è in essere la trattativa è partita ieri abbiamo detto della prima offerta sentiti anche colleghi del lato Danimarca insomma in generale si sa che in questo momento chi deve comprare è quello che deve fare la prima mossa eh l'ha fatta con la prima offerta è stata rispedita al mittente ora si aspetta che in questa giornata tra oggi e domani ci sia il rilancio del del Milan per provare ad avvicinarsi a quella che è la richiesta del Midgeland una richiesta che è ancora un po' lontana dalla prima offerta visto che all'incirca è quasi il doppio Henry alla fine credo che si girerà tutto tutto qui nel senso c'è la volontà di prenderlo c'è la volontà ovviamente di non arrivare alla cifra richiesta e piano piano si cercherà di venersi incontro sì io credo che che comunque quella del centrocampista lo diciamo da tempo sia una una necessità una priorità ed è ovvio che ogni edica è il nome principale in questo in questo momento del mercato del Milan sul sul tacuino c'è da dire che noi a noi piace sempre complicarci un po' la vita perché anche il Midgeland chiamatelo anche qui come vi pare perché quei nomi abbiamo sempre da fare non è che sia una squadra con la necessità di vendere che fa cessioni sistematiche per risanare bilanci o chissà cosa anzi una società piuttosto ricca che è piuttosto tranquilla danese e quindi sì ha fatto cessioni nel corso della sua della sua storia però non va oltre i 10 milioni di cessione se non sbaglio il record lo detiene Onieka che anche il nome lo ricorda anche sempre nigeriano che è andato al Brentford tra l'altro io ci farò un pensiero su Onieka magari a questo punto costa di più però non è male come come giocatore da mettere lì fatto sta che insomma è una squadra piuttosto solida dal punto di vista economico e con cui non è semplicissimo trattare e soprattutto che non abbassa le sue richieste perché non ha necessità di farlo una cosa che ovviamente abbiamo già sentito nel corso di questa di questa sessione di mercato del Milan però in quel caso è andata bene perché poi alla fine di che telare è arrivato e quindi l'augurio quello che possa andare in porto anche qui anche perché ieri era il complanno di Bakayoko ma Bakayoko è più fuori che dentro insomma è un giocatore che non ha garantito quel livello di prestazione la scorsa stagione quindi per me Onieka non sarebbe un comprare tanto per è ovvio che tutti magari speravamo nel nel centrocampista titolare che avrebbe sostituito che sì magari un Fofana o un qualcosa del genere però un ragazzo giovane tanto esplosivo con buone prospettive ieri ci hanno anche detto ce l'hanno anche raccontato ci hanno anche detto un pochino che tipo di giocatore è dove deve migliorare se è pronto se non è pronto adesso lascio lascio dire a te però insomma è un buon prospetto che può crescere che parte sicuramente non come titolarissimo eventualmente del Milan ma che insomma ha tutte le possibilità poi di crescere e di esplodere. Sì ecco magari è proprio quello il discorso molti tifosi ma in realtà probabilmente anche noi stessi ci ci aspettavamo con la partenza di che sì che potesse arrivare un giocatore che all'indomani potesse prendere in mano il centrocampo comunque essere uno dei tre titolari che a rotazione vanno in campo che invece si sta andando su un giocatore di altre caratteristiche che magari nel prossimo futuro potrebbe anche essere meglio ma all'indomani della firma sul contratto parte un pizzico indietro rispetto ai due titolari quindi non è sicuramente un giocatore da quello che ci dicono soprattutto chi lo vede di più cioè i colleghi della Danimarca che è libero per per essere subito un titolare è un giocatore che è pronto per il grande salto quello sì però non per per essere un super titolare della squadra campione d'italia c'è da prendere un giocatore vederlo un pizzico raffinarlo per poi avere la disposizione sempre comunque anche come titolare sarà magari un percorso un pizzico più lungo ecco anche perché altronde la la giovanità lo lo consiglia ma ci sta ci sta ci può stare assolutamente ovvio ripeto è nato via che sì io lo so che la nostra speranza era quella di prendere un giocatore diverso o o comunque di di avere un titolare un giocatore appunto un pochino più più pronto e più forte però non è detto di custone di ca non lo diventi la juve prende adesso non è solo per la la somiglianza estetica ma la juve prende poco a zero qualche qualche anno fa un po di anni fa ormai e nessuno lo conosceva e diventa quello che è diventato quindi io insomma su questo stare anche un po' tranquillo perché queste cose possono succedere nel calcio succedono calolù uguale da noi certo è un po' il mercato delle delle somiglianze abbiamo cercato di comprare un giocatore che somigliava a un ex trequartista e adesso ne prendiamo uno che somiglia a Poguara scherzi a parte questo per quanto riguarda il centrocampo Henry invece in difesa detto di indicare ieri che insomma non ci dovrebbero essere grandi novità su di lui non siamo né noi super convinti di mettere 15 milioni ora a un anno dalla fine né convinto lui di partire a un anno dalla fine del contratto per la decisione per la destinazione che deciderà l'Eintracht vuole essere un po' più libero di scegliere magari di aspettare anche la Premier stessa e quindi la vedo un po' grigia su quella questo ragazzo ha le possibilità nel giro di qualche anno di arrivare in un top club di Premier League o di Bundesliga o anche di Serie A insomma in un top club quindi è ovvio che Premier League le cifre che girano sono altre i progetti se la Premier League magari sei l'Eintracht passami il termine alla canna del gas e mette sul cartellino del ragazzo una cifra ancora un filo più bassa una di Premier magari lo fa lo stesso è l'operazione mette poi 10 12 13 quelli che sono e lo porta via però per quanto ci riguarda bisogna tenere in considerazione ancora il numero di Dallò non tanto per per le caratteristiche comunque è un buon completamento di Rosa ma proprio perché è un prestito e in questo momento per la difesa più o meno quella è l'indicazione se per il centrocampo c'è qualche soldo da spendere ancora e lo stiamo vedendo per la per ogni dica per la difesa si andrà di prestito a proposito di prestito c'era la grande possibilità c'è ancora in realtà che è arrivato un difensore potesse partire gabbia vediamo non è non è deciso al cento per cento dipenderà anche molto da lui in realtà da gabbia stesso perché alla fine era stata una sua richiesta quella inizio mercato di provare a giocare un po di più se c'è la possibilità di farlo bene se c'è la volontà di tutti bene altrimenti potrebbe anche restare fino a non a gennaio a novembre e poi in pratica dopo i mondiali andare andare via eh sì ci ci può stare perché comunque in ottica lista e gabbia fa sempre comodo e quindi ci può stare che che resti detto ciò io io credo che questo ragazzo debba giocare eppure tanto quindi non almeno metà stagione per me deve farla in una squadra per per avere minutaggio e continuità perché altrimenti sì è vero giochi giochi nel milan ti alleni quotidianamente con i vari Tomori Calu Lucchier devi affrontare quotidianamente i vari Orighi Leao Rebic Giroud e Ketelar Ibra quando c'è eccetera eccetera però poi alla fine non giochi le partite che sono la cosa che fa crescere di più quindi il mio augurio che comunque lui possa andare a giocare perché gli serve perché gli serve e questo vorrebbe anche dire che è entrato almeno un difensore al Milan e quindi l'augurio è doppio ecco ma anche proprio per gabbia perché ripeto a quando ha giocato e giocava con continuità nel due stagioni fa se non sbaglio quando avevamo avuto quegli infortuni in difesa non aveva fatto male non aveva fatto per niente male poi in realtà quando sono tornati quando è tornato Calulù è arrivato Tomori e Kier c'era Romagnoli quando è dovuto quando è stato chiamato in causa non è che ci ricordiamo prestazioni esaltanti di gabbia anzi questo perché giocare fa la differenza perché la continuità fa la differenza la fiducia fa la differenza e quindi questo ragazzo ha bisogno di giocare per quanto mi riguarda. Harry noi siamo arrivati in chiusura come è successo un po' per De Ketelar quando siamo in attesa di di mosse e non c'è nulla da dire è anche giusto farlo insomma siamo in attesa del del fatto che il Milan possa salire un attimo di di offerta avvicinarsi a quella che l'offerta anzi la richiesta del Midgilland e poi nel caso la racconteremo Henry siamo arrivati in chiusura noi ci ritroviamo tra pochi minuti tra l'altro pure io e te sì ci arrivo in tempo sì ciao ciao è stato un piacere ci ritroviamo tra pochi minuti se no altrimenti se non arriva Henry quindi chiama Milano si fa no scherzi a farsi alle 13 c'è Lancia alle 16 il talk 19 c'è filo rosso nero ciao a tutti grazie